Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andiamo a chiedere alle carte questa persona, com'è che ci vede? Allora, ho già preparato due varianti. Scegliete il mazzo che sentite più intuitivo nei vostri confronti. La prima variante, cioè quella arancione e la seconda variante con il simbolino giallo. Qua c'è la luce, sembra bianco, ma è giallo. Ricordo sempre che sono interattivi, sono validi dal momento in cui li vedete. Inoltre, mi raccomando di non forzare la situazione, quindi non cercare di incastrare a tutti i costi la vostra situazione sulle carte, ma essendo interattivi, quindi energie generali, molte persone guardano, molte sono le situazioni, potrebbero risuonare completamente, in parte, o anche potrebbe addirittura esserci un piccolissimo messaggio che è volto semplicemente a illuminarvi su qualcosa o a mettervi a conoscenza di determinati particolari a cui magari non avevate pensato o non credevate proprio potessero esistere. Vi lascio qualche secondo, mi raccomando, concentratemi sulla domanda e sulla persona. Quindi la domanda è come ci vede questa persona? Eccoci qua, andiamo subito a vedere la variante arancione. scusate ho ridotto sotto che mi aggola. Andiamo subito a vedere la variante arancione, se non vi è bastato il tempo tornate indietro un attimino e fermate il video. Eccoci qua, andiamo subito a vedere la variante arancione e chiediamo subito alle carte cosa siamo, come ci vede questa persona? andiamo subito a vedere la variante arancione. ok è caduta una carta, la teniamo eccoci qua, andiamo subito a vedere la variante arancione. eccoci qua, allora com'è che vi vede? allora questa persona diciamo che vi vede in una situazione piuttosto affaticata, ecco chiamiamo così. nel fondo mazzo abbiamo il 3 di bastoni quindi è una carta che mi parla di progetti di progetti e di situazioni che noi vorremmo avere all'interno della nostra vita scusate ci sono i gatti che stanno invadendo la stesa dei progetti che noi abbiamo fatto tra l'altro sotto abbiamo un re di spade qua ci sono delle appunto delle prospettive che noi avevamo con un uomo che però qui non è affatto ben disposto potrebbe essere una persona particolarmente calcolatrice il re di spade è una persona che poco si smuove con i sentimenti con le emozioni ma tende a ragionare molto sulle cose e potrebbe essere sia l'energia sua al del re di spade quindi lui che è un po' guardingo un po' attento e vigile nella situazione ma potreste essere anche voi che in base a come sono andate le cose con questo uomo che non è detto siano le persone a cui chiedete di cui chiedete mi raccomando ma potrebbe essere semplicemente una vostra situazione che non ha niente a che vedere con la persona di cui chiedete potreste essere voi che vedete questo uomo in queste condizioni perché o vi sta facendo soffrire o lo vedete particolarmente freddo e rigido nei vostri confronti allora com'è che vi vede questa persona innanzitutto con il lotto di coppe vede qualcuno che si è allontanato da una situazione vedete questa persona dalle spalle le nostre coppe e si sta dirigendo verso una situazione nuova diversa qua vediamo il mare che comunque è calmo riguardano sempre l'acqua riguarda sempre le emozioni ci sta a significare che diamo le spalle a quello che è la nostra vita sentimentale o i nostri sentimenti o le nostre emozioni per dirigersi verso una situazione più tranquilla diciamo molto probabilmente qua il mare essendo calmo ci mostra che stiamo andando verso qualcosa che ci rasserena su un certo punto di vista ci fa soffrire perché stiamo lasciando dietro le spalle le nostre coppe quindi quello che noi ritenevamo importante a livello affettivo ed emotivo ma andiamo comunque verso una situazione di tranquillità e serenità anche se anche se non è detto che sia proprio così perché qua abbiamo la luna la luna è una carta che comunque in questo mazzo tende a mostrare e non mostrare quindi vedete la via si vede qual è quella da prendere però attorno non è chiaro il percorso cioè abbiamo visto che dobbiamo comunque cambiare strada cambiare direzione ma un po' stiamo andando verso qualcosa che noi crediamo sia tranquillo ma non è detto che sia così perché infatti in fondo ci sono poi le montagne che potrebbero essere appunto indice di futuri ostacoli future situazioni e qualcosa comunque di incerto quindi non sappiamo dove ci stiamo dirigendo dopodiché mi esce il 5 di denari allora questa è una carta che mi sta a significare che questa persona vi vede in una condizione di di perdita cioè vi vede in una situazione di sconforto perché perché adesso questo mazzo è raffigurato in questo modo ma normalmente qui viene rappresentata dove ci sono i denari viene rappresentata una finestra che mostra una situazione di calore e di amore diciamo dalla quale noi siamo esclusi quindi veniamo esclusi da quello che noi vorremmo dalla vita infatti come vedete fuori c'è una persona che piange che si dispera che è triste ed è anche ed è anche una situazione in cui noi ci sentiamo soli soli e abbandonati inoltre questa carta può riguardare anche che non non siamo in grado cioè o meglio potrebbe arrivarci un aiuto ma non siamo in grado di vederlo non siamo in grado di vederlo perché siamo fuori il freddo siamo povere non abbiamo niente ci sentiamo tristi abbandonati e anche quando ci viene comunque donato qualcosa siccome non è quello che noi vogliamo tendiamo a non vederlo cos'è che pensa poi questa persona pensa che come vi vede più che altro vi vede delle persone lavoratrici che state comunque progredendo nella vostra vita il lotto di denari è una carta che parla di lavoro intenso di costruzione quindi una persona che si è data da fare e che si sta dando da fare nella propria vita per crescere qua mi viene soprattutto a livello materiale quindi qui potreste essere una persona realmente molto impegnata sul lavoro oppure potreste essere qualcuno che sta comunque costruendo qualcosa che poi gli rende sia a livello economico come potrebbe essere la costruzione di una casa la costruzione anche della propria persona cioè il fatto di trovare il modo di recuperare questa situazione di lavorare per risolvere questo tipo di situazione ok che potrebbe essere anche un lavoro di tipo emotivo ok per farvi com'è che posso dire per darvi una mano a superare una situazione che qua mi sembra particolarmente difficile e lotto di denari potrebbe soprattutto riguardare anche il fisico per esempio se ci sono delle persone che si sentono brutte esteticamente perché il denaro riguarda proprio la situazione materiale e pratica se una persona si sente brutta non si sente più bella eccetera lotto di denari mi sta a significare che stiamo apportando dei cambiamenti nella nostra figura estetica al fine di migliorarsi e di piacerci di più il 3 di spade ecco un'altra carta di come vi vede questa persona questa persona pensa che voi abbiate sofferto moltissimo il 3 di spade vi vede come una donna o un uomo sofferenti alla quale è stato spezzato il cuore una persona che ha subito un tradimento un allontanamento o potrebbe essere anche che questa persona vi veda lontani lontani ma comunque l'allontanamento l'avevamo già visto qua nell'otto di coppe ma comunque qua c'è il cuore proprio trafitto spezzato questa carta parla di allontanamento ma bisogna fare attenzione perché non è un allontanamento è la carta anche del tradimento perché ci sono 3 spade quindi 3 situazioni 3 persone potrebbe esserci stata una persona che ha creato queste difficoltà ma vista singolarmente potrebbe essere anche la carta di una persona che è stata costretta contro i sentimenti ad allontanarsi e ovviamente a soffrire questo vede questa persona e il 10 di bastoni come ultima carta vede che siete molto stressate vede delle persone che molto probabilmente lavorate moltissimo ma quello a stressarvi maggiormente è questo stato di profonda sofferenza cioè tutta questa situazione che vi sta creando molta fatica vedete questa persona sta cercando di sollevare tutti questi bastoni queste piante che sono molto pesanti ed è il peso che questa persona si porta sulle spalle quindi sacrifici le rinunce tutto quello che crea sforzo fatica un lavoro intenso stressante alla quale voi siete sottoposte e questa persona vede che la situazione è questa quindi vi vede appesantite ecco dalla vita e dalle situazioni che avete all'interno di vostri rapporti interpersonali ma anche qua mi viene anche a livello economico perché qua vedo che lavorate 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 però la situazione è sempre è sempre così povera ecco sentimentalmente anche vi vede un po' diciamo massacrate in tutta un po' la parte della vostra vita allora con la variante già arancione io ho finito spero che vi sia piaciuta vi invito a mettere mi piace condividete il video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e naturalmente commentate ditemi se la stesa risuonato con voi e fatemi qualche richiesta se volete dei nuovi dei nuovi interattivi diversi da quelli che sto pubblicando variante arancione vi abbraccio tantissimo e adesso passo alla variante gialla mettiamo qua il simbolino e vediamo subito benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la variante gialla vediamo subito come vi vede questa persona la variante gialla e vediamo subito Grazie a tutti. Ok, allora, variante gialla. Allora, intanto abbiamo qui sul fondo mazzo la carta del fante di denari. Allora, il fante di denari potrebbe essere una persona che è nella vita ancora un po' diciamo alle prime armi. Infatti il fante è la prima carta dei personaggi di corte. È inesperta, è una persona però che sta cercando di sviluppare questa sua capacità che è quella dell'aspetto terreno, quindi del costruire qualcosa di solido, di pratico, tipico dei denari, quindi della terra diciamo. E sta, lavora, vedete che ha questa chiave, ha qualcosa di piccolo che un po' alla volta porterà a una crescita. Quindi questa persona vi vede un po' diciamo ancora immaturi sotto l'aspetto economico o anche lavorativo. La carta del fante di denari è la carta, per esempio, dell'apprendista che si sta cimentando nelle prime esperienze lavorative o comunque potrebbe essere anche che magari, non so, state studiando o state frequentando un corso o comunque magari siete in una mansione che non vi è proprio, diciamo, in cui non siete particolarmente esperti. Quello che riguarda anche il fante di denari sono le notizie, quindi il fante di denari è una carta che mi porta notizie. Allora, com'è che vi vede questa persona? Allora, con la carta della temperanza vedo che vi reputa comunque una persona, diciamo, molto tranquilla, molto appaccata, una persona che è paziente, che ha anche una sorta di equilibrio nell'esistenza, una persona molto equilibrata a cui molto probabilmente piace parlare e discutere, cioè conversare, una persona molto portata alla comunicazione. Con questa carta potreste essere delle persone che comunicano molto anche a livello proprio messaggi, telefonate, mail. Potreste essere anche delle persone che lavorano con internet, con i social media, eccetera. Questa è una carta proprio che parla di comunicazione in tutti i sensi. Quindi com'è che vi vede? Vi vede molto aperte nel parlare, nel comunicare, delle persone che hanno anche un po' quella serenità e quella tranquillità che mette proprio, cioè è in grado di curare gli animi. La temperanza è la carta che parla del curare un po', no? Quindi molto probabilmente quando arrivate voi o si calmano i fulmini o comunque si rientra in una situazione molto di serenità e tranquillità. Quindi questo vede in voi e poi vede il nove di coppe, cioè una persona che ha molto nella vita sotto il profilo sentimentale, cioè una persona che un po' ama godere della vita, ecco, chiamiamola così, che ha molti desideri realizzati nella propria esistenza, soprattutto nell'aspetto emotivo e sentimentale, ecco. È una persona che ha, vedete, realizzato tutte queste qua nove coppe e ora se le gode, insomma. È una persona che comunque sta bene a livello emotivo, ok? È realizzata a livello emotivo, ok? Col 5, la carta dell'eremita, che va un po' in contrasto con questo nove di coppe, se vogliamo, mi fa un po' pensare che questa persona vi veda un po' spaventate su alcune questioni della vita, ok? Vi vede molto riflessive, potrebbe vedervi un pochettino fredde, ok? L'eremita è anche una persona che sta facendo un percorso interiore, perché vedete qua nella carta c'è una persona che è molto spaventata, insomma, terrorizzata da qualcosa. L'eremita è anche una persona che però normalmente cerca di studiare le proprie paure, quindi è una persona che cerca di proprio fare un percorso personale e risolvere i propri problemi. Il 5 di spade, il 5 di spade è una carta, la persona potrebbe vedervi un pochettino, un po' vendicative. Potrebbe vedervi un po' vendicative e insieme a questoeremita potrebbe significare che voi, quando vi sentite o che litigate o vi sentite un po' offese o infastidite da qualcosa, tenete un po' a chiudervi, a chiudervi e a ritirarvi. E rispetto a questa situazione vi vede un pochettino vendicative, ma anche delle persone che quando è ora di sguainare la spada non hanno problemi, nel senso che si spaventano, vi chiudete, vi isolate, cercate di risolvere i vostri problemi da sole, però qui con questo 5 di spade un po' anche forse subite anche una sorta di vergogna quando avete delle discussioni con qualcuno, perché questa carta della temperanza iniziale mi fa comunque pensare che voi siete delle persone molto equilibrate e non sopportate tanto gli aspetti negativi dei rapporti interpersonali, cioè le litigate, le discussioni, le invidie, le vendette, eccetera, non siete così e almeno questa persona non vi vede così, ricordiamo sempre che non è che voi siete quello che sto dicendo, è la persona che vi vede in questo modo. Il 2 di coppe a fine carta è una bellissima carta e questa persona vi vede o come la donna ideale, diciamo, oppure potrebbe vedervi anche come una persona in grado di dare molto amore, in grado di darsi proprio all'altra persona, di condividere i sentimenti, le emozioni e tutto quello che riguarda i rapporti interpersonali. Quindi sono delle carte, dal punto di vista sentimentale, molto belle, di coppe soprattutto, perché proprio vedete che c'è lo scambio delle due coppe e la donna che tiene la mano sulla pancia, che è simbolo di fertilità e anche, diciamo, di gravidanza e quindi una persona che è in grado di rendere fertili i rapporti, di coltivarli e di far star bene l'altra persona. Va bene, variante gialla, io spero che vi sia piaciuta la lettura. Vi invito sempre a mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Condividete il video e, mi raccomando, ditemi se la stesa ha risuonato con voi e fatemi qualche domanda sui commenti, se volete altri interattivi, se volete un interattivo specifico con una domanda specifica. Per oggi io vi saluto e vi ringrazio di aver visto il video e vi aspetto con i prossimi. Un abbraccio grande a tutti! Grazie!